Bellissimo, mi piace un casino questa canzone qua Contatto avvenuto, il programmino di Gigi D'Agostino Siete sulle frequenze giuste Mi hanno scritto in tantissimi per il giochino dell'altra volta Ha avuto un enorme successo Poi dopo leggerò qualche messaggio Intanto vi do il numero di telefono per scrivere i vostri sms 333-6467-662 Il programmino di Gigi D'Agostino Il programmino di Gigi D'Agostino Anche oggi potrete scrivere per vincere l'omaggio Per entrare gratuitamente all'evento del 20 febbraio Al Privilege di Torino dove suonerò io tutta la notte Potrete partecipare al giochino che dopo vi rispiegherò E' quello dell'altra volta Quindi per il vostro messaggio da scrivere qui al programmino 333-6467-662 Oppure posta elettronica gg.supergigi.com Troverete altre informazioni sul mio sito www.gigidagostino.com RIN Radio Italia Network Ecco, il programmino di Gigi D'Agostino Di Gigi D'Agostino www.gigidagostino.com 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 www.gigidagostino.com